Allora, vado a giftare le sub alle persone che mi vengono a giftare le sub e come tale all'incirca un mesetto e mezzo fa c'erano state 20 sub giftate molto in maniera non tanto inaspettata quanto fastidiosa perché le 20 lo sapete che cosa sono, sono la domandina, la grande domandina la fantastica domandina che proprio non mi piace, mi piace sentirla in generale cioè se qualcuno giftasse adesso 20 sub mi farebbe piacere, non mi fa piacere alle 3 di notte per svariati motivi, ve li elenco essendo una persona buona se uno mi gifta 20 sub alle 3 di notte mi sveglia le persone che si sono addormentate con il cellulare e la mia stream e quindi le persone che tecnicamente stanno a guardare le pubblicità perché gli partono le pubblicità, magari non c'ha nel sub, stanno a guardare tutto e mi pagano di più quindi mi sveglia quelli, quelli vogliono tornare a dormire, staccano a stream e io perdo soldi in pubblicità quindi non sono mai belle le 20 sub, intanto ci tengo subito a dirlo è ovvio che stasera qualcuno gifterà 20 sub alle 3 di notte, sappi che poverino se tu madre ha fatto quell'incidente mentre te ci avevi in pancia non è colpa sua, non te la prende con la tua genitrice e niente quindi c'erano state 20 sub giftate da parte di Merisiel durante Peggle e allora io l'altro ieri non avendo nulla da fare e stando insieme a un toscano, Zavelli che praticamente dalla mattina, penso si sia tirato almeno 4 o 5 rasponi nel mio bagno perché era veramente allupato in questi giorni ha deciso di farmi aprire la stream di... la sua stream alle 10 di sera una roba del genere due giorni fa che era martedì se non sbaglio martedì o lunedì non mi ricordo quando alle 10 di sera la sua cosa e il problema qual è? Che io sono a Gran Canaria sono in un'isola, sono letteralmente circondato da vecchi di 80 anni non ho niente da fare, stavo con un'altra persona e voglio dire non posso muovermi cioè la mia vita è più... non è triste io sono molto felice di come sta andando la mia vita qui però voglio dire sono una persona abbastanza sedentaria quindi ci sta che magari mi capito in certe situazioni tipo la situazione di giftare 10 sub a Merisiel ovviamente non gifto mai di nuovo il numero di sub che mi vengono giftate dagli streamer smezzo sempre gift 10 e... arriva il gioco... arriva il gioco del cazzo più lungo ma una cosa così inaspettata che io ci ho riso tutta la notte e vorrei ringraziarlo perché letteralmente mi ha svoltato la serata perché mi ero fatto un cementone, mi ero fatto e quindi la risata è stata anche più volte un pochino in un certo senso esasperata mi ha proprio svoltato quindi è stata... grazie poi anche perché veramente non stiamo facendo nulla gift 10 sub dopo 20 secondi ne vengono giftate 20 da questo povero cristiano di Grimbaud un timing piuttosto ambiguo nel senso voglio dire cioè deve essere triste letteralmente vivere nella città con più movita serale per gli influencer letteralmente con intorno fighe a destra e a manca con le discoteche e tutto e ritrovasse e il martedì sera guardasse la stream di una che non sa manco che cazzo sta a fare davanti a una telecamera e giftanne 10 in più di una persona che gli ha rigiftate ma solamente perché se ne era fatto gift a 20 l'altra volta però mi rendo conto comunque che l'unico modo per effettivamente approcciarti alle donne sia nei soldi visto le persone che effettivamente porti come ospiti ci sta è solo che mi ha fatto veramente ridere questa cosa veramente è inutile fare il gioco del cazzo più lungo con me non tanto per la questione dei soldi no cioè a vedere chi si spinge più oltre ma perché intanto c'ho il cazzo così c'ho il cazzo troppo piccolo frate quindi non c'era bisogno manco di giftanne 20 ne avevo dei gift a una e c'avevi comunque il cazzo più grande del mio frate non riesco a guardarlo se adesso mi guardassi nelle mutande per cazzo probabilmente che sei rinfilato dentro al culo quindi c'era proprio bisogno non è un gioco divertente cioè è come praticamente il Real Madrid che gioca con i paraplegici under 18 non ha senso però vabbè è stata una cosa molto simpatica quindi ve la volevo dire perché mi ha fatto molto ridere e mi ha fatto ridere per tutta la serata quindi che dire solo questo ciao 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 ciao